Questo è mercoledì 24 di gennaio. Siete venuti con questa mattina il prodigio della licitazione del sangue di 10 gennaio. L'annuncio dell'avvenuto miracolo, dato dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, alle 10.05 è stato salutato da un lungo applauso e dallo 20.000 rifazzoletti bianchi. Il miracolo è da sempre letto come buon auspicio della città di Napoli. Prima della rientrazione liturgica il cardinale Sepe ha mostrato l'ampolla con il sangue del santo che ha già sciolto l'apertura della cassaforte prima che venisse portato in processione. Folla di fedeli nel Duomo dove sono state rafforzate le misure di sicurezza. Affidiamo a San Gennaro il nostro bisogno di pace, la nostra capacità di accogliere l'altro e guardare ai più deboli per realizzare la vera giustizia che è presupposto di pace, ha detto Sepe durante l'omiglia. Ricordando inoltre il luttuoso terremoto nell'isola Dischia e i devastanti incendi che hanno causato vittime e danni ingenti all'economia e all'ambiente. Omicidio durante la notte del napoletano. Un uomo Giuseppe Raimo di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in modalità da accertare al parco verde di Caivano. La polizia è stata allertata dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di Tratta Maggiore, dove l'uomo è stato trasportato da un vicino di casa che dopo aver sentito l'esplosione di colpi di pistola, ha trovato un uomo realmente felice davanti al palazzo. Questo è un uomo giusto già privo di vita in ospedale. I carabinieri della compagnia Napoli Romero hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia caperati in carcere emessa dal GIP di Napoli con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di apparati in bancomat, in abitazione e in esercizi commerciali. Del corso di indagini coordinate dalla propria Napoli, i militari dell'arma hanno scoperto l'esistenza della banda, che era composta da sette persone. Oggi tutte raggiunte da misura capolare per la partecipazione a vario titolo a dieci colpi perpetrati in Campania e in Lazio a partire dal 2015. Tra i componenti del salizio composto da campani, residenti tra Napoli e l'Interland, c'era l'uomo chiave, Massimo Aballone, specializzato dalla cultura di sedatura, e soprattutto dello scandinale e poi aprire gli apparati bancomat. Con l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo è stato iscritto nel registro degli indagati l'amministratore unico della società che gestisce il sito della solfatara di Pozzuoli, per il quale hanno perso la vita una settimana fa madre, padre e figlio di 11 anni. Questo è Mettere il 24 gennaio del 2024. 6 anni è stata trovata morta a Nicola, nel caso per i digeriri. La signora è stata rinvenuta da suo marito in fondo alle scale dell'abitazione in cui vivivano in via vicino dell'amoglio. L'uomo è trasceso in cantina per effettuare alcuni lavori e al suo ritorno ha trovato la moglie diversa in un largo di sangue con una profonda ferita alla testa. Giunti sul luogo, gli agenti del commissarato di polizia hanno interrogato il marito e i vicini. Il PM di turno ha disposto l'esame autotico sul cadavere della donna per chiarire le cause della morte. Al momento l'ipotesi più accreditata è da quella di una caduta dalle scale, probabilmente provocata da un malone. Tragedia è male a Ischia, davanti alla spiaggia di San Piero, che ha perso la vita l'ex esponente politico e l'ex preside dell'istituto Albediero. Antonio De Simone, 68 anni, è morto mentre faceva il bagno. Sulle case del decesso, quasi sicuramente un malone o un infarto, sull'incorso approfondimenti. Sul posto sono intervenuti la polizia e la capiteria di posto. Dopo l'autorizzazione del magistrato di turno, la salma sarà consegnata alla famiglia. E gli amici per mercoledì 24 gennaio.